No soldi pubblici, ma una proposta che il PD dovrà avanzare al Governo nei primi 15 giorni della nuova segreteria. Quindi, se saremo eletti, entro il 15 maggio dovremo presentare al Governo una proposta perché su Alitalia è stata la saga, il festival degli errori, assurdo che un paese come il nostro, pieno di turismo e ricco di possibilità dal punto di vista aereo, butti via un'occasione del genere.